Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it quest'oggi parliamo di export, lo facciamo in senso pratico, come si esporta un video da Adobe Premiere Pro nella scorsa lezione abbiamo visto la teoria, abbiamo parlato dei codec, dei contenitori oggi vedremo praticamente come si fa ricordo www.fabioambrosi.it sito dove troverete gli articoli di questi video tutorial scritti con riassunti di quello che diciamo in queste video lezioni c'è ovviamente l'indice con tutti gli argomenti trattati in questo corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro il corso ormai sta arrivando alla sua conclusione ma se vi siete persi qualche lezione e volete recuperare qualche tema trattato andate sul sito e c'è tutto c'è anche il corso introduttivo ad Adobe After Effects per coloro che fossero interessati ed incuriositi dal meraviglioso mondo della grafica è chiaramente un corso introduttivo quindi non vi aspettate di fare grandi effetti speciali grandi grafiche, è solo un corso per muovere i primi passi www.fabioambrosi.it vi invito, se avete voglia, ma ve lo consiglio di iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere anche i prossimi video tutorial e c'è poi la mia pagina Facebook mettete un bel click, un bel like alla pagina Fabio Ambrosi lì tutte le novità a mano a mano che ce ne saranno chiaramente bene, torniamo in Premiere, parliamo di export cosa fare per esportare il nostro bel video una volta creato in Premiere Pro? abbiamo qui davanti una timeline che ho già mostrato qualche lezione fa relativa ad un trailer, ad uno spot che ho creato per un programma televisivo ancora non andato in onda a dir la verità non per colpa mia, non per colpa dei miei collaboratori ma purtroppo l'industria dei video, almeno adesso, almeno in Italia è abbastanza difficile da scalare quindi speriamo di potervi mostrare presto questo programma televisivo Anomalie, l'Italia occulta, per cui ho tempo fa ho curato il montaggio, la regia le musiche e tanti altri aspetti e chiaramente ho realizzato anche questo trailer, questo spot che non vi faccio vedere per intero c'è il canale YouTube di Anomalie se volete fateci una capatina però noi vogliamo simulare la volontà di esportare questa clip da questa timeline come fare? parliamo di ghost hunting, ve lo dico subito quindi il tema non è sicuramente dei più, come dire dei più scientifici sì dai, un po' di scienza c'è ma non è sicuramente super quark però noi vogliamo esportare comunque un pezzettino di timeline o tutta la timeline come fare? dicevo, un pezzettino di timeline perché? perché può essere utile non esportare subito tutta la timeline ma solo un pezzettino perché chiaramente è inutile esportare un'ora di video è inutile esportare tutto il video se non siamo certi dei settaggi che andremo ad applicare al nostro video è sempre consigliato e consigliabile fare dei test fare delle prove controllare che il file che tiriamo fuori non sia troppo pesante che sia condivisibile e che sia anche di una buona qualità quindi la prima cosa da fare è esportare un pezzettino di timeline testarla se siamo soddisfatti poi andiamo avanti con tutto il resto del video altrimenti modifichiamo ancora le impostazioni e i settaggi come fare per selezionare un pezzettino di timeline da esportare? è semplice lo abbiamo già visto nelle prime lezioni di questo corso introduttivo a Premiere Pro basta selezionare il punto di partenza da cui partire premere il tasto I sulla nostra tastiera scegliere un punto di arrivo sulla nostra timeline premere il tasto O di Otranto ed ecco che abbiamo selezionato un frammento di timeline abbiamo inserito un attacco ed uno stacco c'è segnata qui ovviamente anche la durata della nostra selezione in questo caso appena 7 secondi ma ripeto vanno più che bene per fare un export di prova e a questo punto dobbiamo aprire il pannello per esportare come si fa? allora in Premiere esistono lo ripeto sempre e non mi stancherò mai di ripeterlo più modi per fare la stessa cosa il modo più intuitivo e che tutti sono tentati di seguire è quello di andare nel menu file cercare la voce esporta e ancora una volta la voce esporta file multimediale mi raccomando selezionate sempre prima la timeline la timeline deve avere questa evidenziazione azzurrina intorno questo bordo azzurro altrimenti rischiate di esportare qualcos'altro quindi selezionate la timeline file esporta e poi file multimediale ma c'è un modo più veloce e io ve lo consiglio che è quello di utilizzare la tastiera non mi stancherò mai 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 di ripeterlo utilizzate la tastiera ogni volta che potete perché è molto più veloce e più pratico quindi selezionate la timeline premete i tasti CTRL M CTRL E M di Milano verrà mostrata, verrà aperta questa finestra che permette di sostanzialmente configurare il nostro export e poi procedere con lo stesso analizziamo al volo questa scheda ignoriamo questo primo bottone ovvero crea impostazioni sequenza perché a cosa serve o no crea scusate come impostazioni sequenza perché serve sostanzialmente a tirar fuori un video che ha le caratteristiche simili al video che abbiamo nella nostra timeline lo sconsiglio perché? perché è sempre bene avere il controllo più totale su quello che si fa ogni cosa che fate quando lavorate in Premiere deve essere fatta per vostra volontà nulla deve essere mai lasciato al caso quindi se volete esportare un video quadrato voi dovete volerlo non potete lasciar fare le cose in automatico questo è un consiglio che do sempre anche quando si fanno le riprese vedo spesso purtroppo capita persone che utilizzano la videocamera in maniera full auto no, evitate intanto non imparate a lavorare secondo rischiate di fare qualcosa di sbagliato o di non professionale la stessa cosa vale per Premiere per quanto possibile cercate di fare le cose a mano ok? quindi lasciate questo bottone non spuntato e concentriamoci sul resto formato cosa vuol dire formato? beh Premiere fa un po' di confusione a dire la verità tra container codec tutti quei discorsi che ci siamo fatti nella lezione precedente mischia un po' tutto se noi volessimo esportare un MPEG 4 con codec H264 in questo lungo menu dovete scegliere la voce H264 se volete esportare un file MOV con un codec specifico per il contenitore proprietario di Apple dovete scegliere la voce QuickTime perché QuickTime ricorda un prodotto Apple e questo vi permette di generare file .MOV e poi successivamente andrete a scegliere ma lo vedremo più avanti il codec da utilizzare nel container MOV ma limitiamoci per adesso all'MPEG 4 quindi scelgo la voce H264 perché H264 è il codec che noi andremo ad utilizzare per questo export è un codec molto utilizzato anche se il suo successore H265 promette molto bene ma è il codec più compatibile sostanzialmente tra quelli disponibili per il web non è il migliore forse per condividere contenuti nei siti internet per esempio però quando scegliete di pubblicare su YouTube piuttosto che su Facebook l'H264 è sicuramente una buona soluzione non professionale se lavorate per grandi distributori e gli consegnate un master in H264 probabilmente lo ridanno indietro lì poi ci sono altre cose da valutare ma verranno dette dal distributore o dalla persona o dal cliente per cui lavorate dicevo, basta, tagliamola, facciamola breve perché anche qui servirebbe un corso a parte sull'export come già detto dopo aver scelto il formato dobbiamo scegliere possiamo scegliere il predefinito bene, questa è una piccola eccezione alla regola che vi ho detto prima vi ho detto evitate di fare le cose in automatico vero, ma come tutte le regole c'è l'eccezione potete scegliere un preset e che cavolo, a volte può capitare di trovare il preset perfetto perché non utilizzarlo oh, ci sono tanti preset qui potete leggere e scegliere quello che fa al caso vostro ci sono già dei preset pronti per YouTube in fondo alla lista ma visto che questo è un corso per imparare a fare le cose a mano noi lasciamo le cose come stanno di default è come sorgente ignoriamo perché tanto lo andremo a sovrascrivere tra pochissimo ignoriamo anche la tab commenti qui potete inserire un metadata con il commento al vostro export ma lasciamo per adesso in questo modo nome output, questo è importante qui potete inserire il nome che avrà il vostro file una volta esportato non solo, qui potrete anche decidere dove andare ad esportare il vostro video quindi per esempio Tutorials, posso scegliere una cartella o posso crearne una io già avevo creato una cartella export per gli export di questo corso ma nessuno mi vieta di creare una sotto directory per esempio e chiamarla Demo ecco qua, dentro la cartella Demo vado a buttare dentro i file che vado adesso ad esportare do il nome che voglio per esempio Demo 01 posso premere invio o cliccare sulla voce salva non ho ancora esportato nulla ho solo detto a Premiere dove salvare e che nome dare al file che vado ad esportare notate come il file sarà un MPEG 4 chiaramente posso scegliere se esportare solo l'audio oppure solo il video o entrambi e poi c'è un riepilogo un riepilogo dell'output quindi mi verrà detto dove finirà il mio video mi verranno riassunte le caratteristiche che avrà il mio video queste caratteristiche cambieranno tra poco quando modificheremo altri parametri più in basso poi qui c'è il sorgente ovvero la timeline come avete creato la timeline la timeline è una 1920x1080 quindi un HD un full HD proporzione del pixel quadrato uno sta per quadrato 25 fotogrammi per secondo progressivo e sostanzialmente questo è quanto queste sono le informazioni riassuntive per quanto riguarda la clip sorgente nel prossimo video tutorial metteremo mano ai preset impareremo a scegliere il codec dove possibile in questo caso il codec vi ho già detto che è l'H264 potremo scegliere la risoluzione il numero di fotogrammi per secondo ovviamente l'ordine dei campi il bitrate importantissimo ma di tutto questo parleremo nel prossimo video tutorial www.fabioambrosi.it iscrivetevi a questo canale youtube per seguire un po' tutti i corsi anche i prossimi che faremo e soprattutto cercatemi su facebook Fabio Ambrosi è la pagina da cliccare grazie ancora al prossimo video tutorial ciao